Cresce in Italia la Blue Economy, cioè l'economia del mare. I dati del 2021 indicano un prodotto di 52,4 miliardi di euro quanto a valore aggiunto, quota che arriva fino a 142,7 miliardi se si considera l'intera filiera diretta e indiretta. Con 228 mila imprese e 914 mila lavoratori il settore ha vissuto una crescita boom dell'export tra il 2021 e il 2022 pari al 37,4%. Non è esagerato parlare di clima pazzo in Italia, basta pensare che dal 2010 ad oggi si sono verificati 1.674 eventi estremi, 1 ogni 3 giorni. Insomma, una situazione emergenziale sempre più vicina alla cronicità. È tra gli SOS che diffonde legambiente dopo aver analizzato i dati aggiornati dall'osservatorio Città-Clima. Da sempre promotore della difesa del pianeta, Papa Francesco ha incontrato il 5 giugno, giornata mondiale dedicata all'ambiente, alcuni dei leader della lotta al cambiamento climatico. Una sfida questa, ha sottolineato il Pontefice, che deve poter essere affrontata sia a livello di politica internazionale, sia nei piccoli gesti quotidiani. Il Pontefice durante l'incontro ha poi sottolineato che, ad essere maggiormente colpite dalle conseguenze del riscaldamento globale, sono le persone più povere e deboli. In occasione della giornata dell'ambiente, il Papa ha anche ribadito che un cambiamento è urgente e non può più essere rinviato. Servono passi concreti per far sì che chi è nato oggi, tra 30 anni, non si trovi a vivere in un mondo inabitabile. Non rubiamo alle nuove generazioni la speranza in un futuro migliore. È Ignazio Capuano il nuovo presidente di Conai per il triennio 2023-2025. Prende il testimone da Luca Ruini, l'ingegnere con master in economia alla New York University. Capuano è amministratore delegato di Burgo Group e di Burgo Arden. È membro del consiglio direttivo di Assocarta e fa parte del consiglio di amministrazione della Confederazione Europea dell'Industria Cartaria, CEPI. Un onore ed una responsabilità, commenta il presidente Capuano. Il mio mandato inizia in una fase che vede l'Italia ai vertici delle classifiche europee per riciclo procapite di imballaggi, con obiettivi di circolarità sempre più sfidanti. Conai è oggi un modello di sostenibilità che fa scuola a livello internazionale. Sono entusiasta di portare avanti un'attività di tutela ambientale che si rivela sempre più essenziale. Ad affiancarlo come vicepresidente Angelo Tortorelli per le imprese del commercio e della distribuzione e Antonio Feola per gli utilizzatori industriali.